Io sono Sergio, mi sentite dunque, sono Sergio, alleno l'Empenker e faccio anche Defensive Coordinator nei temi di Cianlusco. Ho portato la mia, avevo chiesto di portare la mentesina, intanto grazie per essere qua. La mentesina di secondo livello è una sorta di ricerca bibliografica, tra con minimo d'applicazione e poi cerco di andare più velocemente possibile nella presentazione, perché poi non faccio a passare domande, ma vorrei iniziare con una domanda a voi su questo momento qua. Ho cercato di pesare, di esaminare le due tecniche che negli ultimi anni, diciamo da 2014, quando è stata ufficializzata la Piazza App e poi nel 2014-2015 con Steve Carroll dei C-Box, di pesare queste due tecniche e di vedere qual è il dibattito, perché in alto, non so forse, sicuramente anche qual è l'Italia, comunque negli Stati Uniti c'è un dibattito abbastanza acceso su queste due tecniche di placardio. Non so quanti di voi ne hanno sentito parlare, penso tutti, bene o male, o per sentito dire, o qualcuno sarebbe studiata meglio, però la Home Stable ha un pochino, come dire, ha dato fastidio a tanti della vecchia scuola e comunque anche a tanti allenatori che utilizzano l'altro tipo di metodo, è una sorta di battaglia. Ora, oggi io non voglio prendere una posizione piuttosto che una, mi interessa invece, e scordi, spero, nella maniera più che era possibile le due tecniche, capire, ma anche se so bene o male la risposta, per quale tipo di tecnica potreste propendere o che già utilizzate, se magari avete riutilizzato un tipo di tecnica, per quale ragione era preferita, insomma, cercare un pochino di dare vita a una sorta di dibattito e magari, spero, alla fine stimolare qualcuno a dire, ok, può interessarmi, oppure una gran cazzata, avevo ragione, pensavo così e così, insomma, cercare un pochino di muovere e di smuovere le acque. Ci sono molte slide, perché, non ve le faccio vedere tutte, perché, come immaginavo, vi verrà lasciata quella presentazione. Chi se la vuole leggere ho lasciato la maggior parte del testo dell'altesina dentro, però oggi, quello che vorrei fare, con il spedito, non ho voluto, ho preso dei fotogrammi da dei filmati che sono online, quindi, se fate una ricerca con queste due, diciamo, voci, trovate i filmati sui quali ho lavorato io e volevo evitare di venire a fare cinema, nel senso di provvedere il filmato, stare così e guardare il filmato, per cui ho isolato alcuni fotogrammi, che sono poi quelli sui quali ho basato, quelle tecniche, le differenze principali tra le due tecniche, ok? Quindi inizierei subito e, diciamo, sommare questo. EZAP è una tecnica che è utilizzata, penso, principalmente da quasi tutti noi, o tutti noi, in diverse varianti e vi farò vedere più o meno come viene spiegata da quelli che sono i coach certificati di EZAP negli Stati Uniti ed è una, come dire, di una tecnica abbastanza consolidata ed è una tecnica che ha una sorta di ufficializzazione dell'NFR stessa. La tecnica, invece, è quella di Piccarlo, che è utilizzata nei college, che ha un pochino riconfezionato, è presentata, diciamo così, come reazione alla decisione dell'NFR di Poltid, di penalizzare i colpi sopra alle spalle, ok? Quindi, diciamo, è stato stimolato a pubblicizzare questa sua tecnica da questa decisione qua. La cosa particolare di queste due... questa qua, questa slide dice, come evidenzia, come evidenzia tiene retto, quelli che sono i punti che, secondo me, dovrebbero un pochino far riflettere tutti su questo tipo di approccio, ok? Questa è una premessa alla tesina che dice, questa vorrebbe essere una tesina con una sorta di visione oggettiva su quello che succede, non pronunciarsi pro o contro un altro tipo di tecnica. Quello soltanto tempo può dirci, ok? Soltanto l'applicazione di noi coach sui ragazzi può dire, questa funziona meglio, questa non funziona, mi trovo meglio con questa piuttosto di un altro. Una piccola premessa. La presentazione che vi faccio vedere ha una piccola parte interduttiva sull'impatto, proprio nel senso fisico, del termine, del placaggio soprattutto sulla testa, ok? Sappiamo tutti i problemi delle concussioni, adesso sono un tema molto molto acceso. Quindi c'è una piccola parte interduttiva nella medicina che vi faccio vedere molto brevemente, sull'utilizzo del casco, sulla natura del casco e secondo me l'utilizzata della testa. Anche perché poi questo argomento diventa la pietra dello scandalo tra Heads Up e Hobs Deco, ok? Tutte e due mirano in maniera diversa e con diversi risultati a eliminare il più possibile l'intervento della testa nel placaggio, ok? Quindi è doveroso, almeno mi è sembrato opportuno, introdurre un pochino il concetto dell'utilizzo del casco nei placaggi, di come il casco si sta evolvendo, adesso non sto a fare un discorso su tutte le marche, però è stato interessato, ho trovato interessato notare, ho notato che, ricercando questa questione dei caschi, che ancora oggi il casco è un uscio rigido, ok? Si sta evolvendo, la bicis sta utilizzando un casco flessibile che è un pochino, ricordo un pochino i caschi, quelli del vecchio stampo dei primi del Novecento in PEN, però il casco era stato rigeneramente progettato per evitare fratture del branco, perché questa è la ragione per cui è un uscio rigido, ok? E da molto tempo ormai si sa che il problema non è un giorno che si spezza la testa quando placca, pensi, la ripetizione dei contatti e quindi delle confusioni che poi generano problemi del lavoro di degenerazione del cervello, ok? Quindi, questa è una sezione del casco bicis che fa vedere come ci sia una parte esteticamente e lo stesso casco che conosciamo tutti con più o meno grazie e elementini di design, però è un casco fondamentalmente flessibile, lo vedete qua? Questo è un testo, è un casco normale, sarà conosciuto o qualcosa del genere, vedete che quando il casco viene lasciato cadere si deforma molto, molto visibilmente, questo dovrebbe evitare tutte quelle forze centrifughe che quando colpiamo, anziché il colpo diretto, fanno scuotere il capo e fanno sì che il cervello dentro comincia ad accumulare uno, due, cento, dici mila coppie. Per noi in Italia è relativo, in particolare noi partiamo tutti un po' più scenico, quindi quando fanno flugge, però è relativo. Negli Stati Uniti già i ragazzini con più di futbol cominciano già ad accumulare questi tipi di traumi, già quando assoranno, dopo molto, dopo di dici anni si è diventato un problema. Quindi questo qua l'abbiamo molto sentito e, come dire, è stato perlomeno per me un avvento abbastanza interessante. Qui si entra nel vivo della discussione, ovvero quello che ha stimolato, perlomeno a me, la volontà di cercare la differenza e i punti comuni tra questi due sistemi di placcaggio era sul sito dentoncronico.com. Due giornalisti hanno fatto una sorta di indagine tra allenatori di high school e middle school su quale tra i due metodi fosse quello più interessante, più seguito. Erano stati incuriositi dall'introduzione di Pitcavoli di questo placcaggio poker e volevano un pochino pesare questo nuovo tipo di placcaggio contro il heads up che era quello già da qualche anno in vigore nelle scuole high school e middle school. E quindi è iniziato questo tipo di ricerca alla quale tra i libretti mi sono accodato io, studiando articoli, andando a vedere un po' di video e cercando un pochino di capire anch'io cosa succedesse. Allora, iniziamo con la tecnica heads up. Adesso vi faccio vedere tutta una serie di questi qua, sono una sorta di suddivisione dei punti, ok? La tecnica heads up è una tecnica, vi dicevo, sviluppata dalla USA Football che è un pochino il treno educativo dell'NFL e già lì tanti addetti ai lavori negli Stati Uniti storcono il naso, vi dirò poi dopo per quale ragione ma è abbastanza facilmente comprensibile questa cosa qua. La heads up si compone di diverse parti, la break è il tavolo che fondamentalmente è la posizione da football, quella che conosciamo tutti, piatti, piede e larghezza delle spalle, 45 gradi, fronte e braccaggio. Il buzz che tradotto letteralmente vuol dire ronzio, in realtà altro non è che un approcciarsi mantenendo l'equilibrio, cercando l'equilibrio poco prima di impattare l'avversario. Il hit, il colpo, quando viene colpito l'avversario, il shoot è l'esplosione, l'apertura dei fianchi verso l'avversario e il rip è la fase conclusiva del placcaggio con il movimento delle mani. Quindi la head up, la tecnica head up affetta la tecnica di placcaggio in tutti questi micro capitoli, ognuno di questi ha dei micro movimenti di cui internet è morto. Ok? Adesso vi vediamo un attimo brevemente. Questo qua è, questi sono fotogrammi del video, ok? Questi ve li trovate online, li ho soltanto isolati qua in maniera tale da fare vedere quelli che secondo me sono i punti più importanti. Allora, il break down, come dicevo, è la stessa di base, ok? Il fit, quando l'allenatore, se vedete sul video, chiama tutta una serie di comandi all'interno del capitoletto break down e poi nel capitoletto kit, eccetera, per comandare i ragazzi, per segnalare ai ragazzi piedi, ok? I piedi, larghezza delle spalle. I ragazzi posizionano i piedi alla larghezza delle spalle. squizi, spremono le scapole, questo per generare tensione dietro la schiena e quindi teoricamente, come dire, far erigere la schiena in maniera, in maniera comprensa e quindi non incopirsi così, ok? Quindi questo qua è lo squiz, è un altro comando dove ti dicono spremi le scapole indietro e in basso, ok? In maniera tale che ti si allarga il toraggio. Sin, affonda, quindi abbiamo i piedi, abbiamo questo, ci passiamo in posizione, piega le ginocchia e abbassa il bacino, ok? Ovviamente, avendo fatto questo tipo di movimento, si dovrebbe evitare di fare questo movimento come risultato. Un altro micro passaggio. Hands, bring to the front, le posizioniamo di fronte, reddit move, ok? Quindi il giocatore all'interno del capitoletto break down, pronto per effettuare il placario. L'altra fase è il puzzle, ok? Quindi affettare il terreno, il ronzio, significa fondamentalmente affettare il terreno con passi in sequenza molto ravvicinati per approcciarci al placario, ok? Questo è tutto quello che succede nel video. Vi sto, come dire, facendo lo storyboard del video che trovate online. È il termine utilizzato per mantenere il controllo prima del contatto, ok? Si ampia la base e quindi la base diventa un pochino più ampia, si aumenta la frequenza dei passi, quindi si arriva di corsa, il video farà vedere che si arriverà di corsa, si interrompe o meglio si, la corsa diventa un buzz controllato. Per la lunghezza, loro si riescono ad utilizzare un gianguiotto o un sacco a terra per dare visivamente la percezione al ragazzo, il tuo, la tua fase di buzz inizia da qui e finisce qui, ok? Dopodiché dovrai essere pronto in break down per la tua fase del placaggio, quindi il buzzing ha un supporto visivo. Queste sono le due fasi finali del placaggio, ok? Viene specificato nel video, tieni il busto a 45 gradi, come già sappiamo tutti, ok? 45 gradi da Campbell, quindi inizia il drill con stress iniziale, ok? Il break down, cosa vi ho fatto vedere, close distance, quindi arriviamo correndo al gianguiotto che poi ci dà il tempo per il buzzing. Importante è il controllo dei piedi e guadagnare terreno durante questo movimento, quindi non è lo skip sul posto, pensi si attraversa il gianguiotto dall'inizio alla fine e si va avanti. Dopodiché si arriva all'istante del placaggio, poco prima del hit, shoot, eccetera, eccetera, che sono i capitoletti che vi ho fatto vedere prima. Qua, downhill power step, bisogna terminare la fase di buzz in posizione di carica, caricando la gamba downhill, quella dove sta andando il gioco, ok? Quindi si va in fase di carico e si va pronti per andare a colpire. Ricordate che tutte queste informazioni che vi sto dando le stanno ricependo dai ragazzi, 14, 15 anni, 16, 17, quindi devono processare un sacco di roba e hanno un sacco di informazioni. Questa, a meno, per me è molto americana quella cosa, cioè guidarvi passo passo attraverso l'esecuzione di un movimento che magari qualcun altro dice vai lì, fai così, e da bassi. Quindi è negativo, nel senso loro hanno il bicidio a disposizione per fare questa cosa. La maggior parte di noi ha poca ore a settimana, per cui bisogna un pochino cominciare già a venire a termine con questa cosa. Comunque, siamo nella fase kill, ok? La posizione che precede la fase del colpo. Qui cosa succede? Abbiamo la gamba downhill, posizioniamo il ruolo, il distruttore fa posizionare i ragazzi in maniera tale che rispetto al piede si carica la tensione, si genera la tensione nei glutei e nei bicipiti femorali, ovviamente anche nei bicipiti femorali, pronti per esplodere e andare al baccaccio. E qui si introduce un elemento che poi vedremo, o meglio, non vedremo nel cock tackle, ovvero sia la posizione della testa. sappiamo tutti che è importantissimo vedere che lo vediamo, ok? Simo 2Kid, vedi, guardati come stai colpendo. Specificamente nel ketchup tackle viene istruito il ragazzo a mantenere il mento alto e gli occhi in alto, ok? Questo per evitare che ci siano contatti con la sommità del cranio che vanno e, come dire, frustano la colonna vertebrale verso basso con risultati catastrofici delle ruote. Questo è molto importante. Shoot, la fase di esplosione delle anghe. Qui siamo passati, penso che lo ruoterete, se non l'avete notato ve lo faccio mettere adesso. È un continuo, saltare da un'informazione all'altra. Prima sei in piedi ti metti in persa posizione, poi parti, corri e vai in buzz verso la vega. In questo momento, nella fase shoot, il ragazzo è inginocchiato a terra per imparare come portare il colpo con le anche, ok? Sappiamo tutto ormai da anni che il placaggio inizia dalle gambe, dai glutei e poi va a salire. Fanno posizionare il ragazzo con gli alluci rivolti verso, rivolti posteriormente, questo perché così evita di aiutarsi nella spinta con l'alluce, ma teoricamente utilizza soltanto i glutei e i muscoli delle coche per periettarsi in avanti. Stiamo sempre a 45 gradi perché questo elemento di shoot va poi incollato con la fase di break down, che è quella schiena dritta, 45 gradi eccetera. Dopodiché al comando del coche il ragazzo si lancia in avanti, si viene sul sacco e quindi cosa fa? Esplode in avanti con le anche, ok? Qui, ed è abbastanza interessante, cosa succede? Cominciamo, oltre alla posizione della testa, cominciamo a capire dove vuole arrivare la USA Football come informazione. ti dicono il punto di contatto devono essere le spalle. Come ottieni questo? Con un certo, con un piccolo trucchetto che il coach ti fa, che dovrebbe essere, si posiziona davanti a te, ok? Di fronte al sacco dove vai a cadere, ma gli alzati ti fa vedere un umano con le dita. tu nel momento in cui ti lanci, tenendo possibilmente la testa alta, devi urlare due, tre, quattro, il numero che vedi, ok? Quindi in quel momento ti lanci in alto, c'è quella fase finale delle braccia, che vi farò vedere, e urli il numero che il coach ti fa vedere, così facendo nelle intenzioni che succede. Si tiene la testa alta, si guarda che cosa si colpisce, ok? Parte finale è il rip, ok? Con il rip si utilizza le braccia, ok? Cosa succede? Due compagni di squadra, qui di nuovo, si ferma il deal e si sposta con due compagni di squadra che tengono già due oltre un sacco, orizzontale, di fronte al ragazzo. Il ragazzo parte nella break down position, arriva, il contatto com'è? Mani in fondina, ok? Come avremmo visto alle plastiche, che sappiamo tutti, arriva e colpisce con un doppio montante, ok? Viene definito un double up, nel video. Si arriva con un doppio montante che va a bracciare il gianduiotto un sacco e lo portiamo via nel placaggio. Cosa fa questo? Che cosa ci consente di fare? O meglio, viene consigliato di utilizzare questa tecnica, anziché quella tradizionale del sacco a terra, perché il tumore è anche abbastanza giustificato. E' quello di avere il ragazzo che quando va al gianduiotto verticale lo abbraccia. Abbracciandolo cosa fai? Le braccia si allargano. Ok, allargandosi le braccia, ingurviamo la schiena, abbassiamo la testa e esce quel problema che si voleva evitare. Lo sede il ragazzo che abbassa la testa e va a colpire con questo movimento. Portando il punto di contatto in alto e facendo questo movimento, la schiena si inarca. Per forza di cosa la testa deve alzarsi, per cui in delle intenzioni di chi ha progettato questo drill, la testa viene comunque mantenuta in alto. Ok? E questo fenomeno è il, come dire, è la tecnica head up. viene definita tecnica head up, tecnica di placcaggio e a mio avvio cercando di venderci un metodo a noi genitori o a noi associazioni per convincerci per il placcaggio che il futbol non è poi così pericoloso, perché ci hanno fatto vedere questo video, questo metodo per placcare sicurezza, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è vero che comunque è un metodo che ci ha aiutato, sicuramente ci aiuta a approcciare il placcaggio e insegnare il placcaggio ai ragazzi. Ok? E' altrettanto vero che sono domande legittime, sono dubbi legittimi queste cose, ok? La certificazione e il fatto che siamo, che questa associazione sia così fortemente legata all'NFR può effettivamente suscitare dei dubbi. E provate a tenere a mente questo tipo d'approccio al placcaggio, ok? Questa è, a mio avviso, una tecnica di placcaggio. Passiamo invece alla foto. Scusa, a te, dalle due ore 6, lo ritieni completamente corretto? Ci arrivo alla fine. Ok. Ok. No, no, non per niente, per il fatto che vi faccio vedere tutto e poi quello che vorrei fare è proprio parlarne con voi, ok? Chiedervi, capire che cosa... direi io cosa ne penso, ovviamente, ma poi sentire voi cosa ne pensate e soprattutto se ne avete provate alcune. Tecica Fook Tecnic. Questa qua è un pochino più recente in termini mediatici, ok? Rissale più o meno al 2014 con un'integrazione del 2015 di Piccaro. E' stata rilasciata sul sito dei Seattle Sioux, ovviamente, boom, è esplosa macchia d'olio, come era l'intenzione anche di Carro. Nell'intenzione di Carro, che ha comunque utilizzato questa tecnica dal 2001 quando ero a USC, l'intenzione è quella di togliere la testa dal placcaggio, eliminarla completamente. Il primissimo commento che mi sono sentito dire e che probabilmente sentirò da voi è grazie al cazzo che è un placcaggio rugby, questo qua, togli la testa, boom, è vero da Carro. Ma lo studio è cominciato proprio da lì. Come? Sto facendo una ricerca di quel tipo. Si, è iniziato da lì, nel senso, Carro si è domandato, non hai spiegato chiaramente se ha, meglio, dopo si dice che è preso dal rugby, va bene, non c'è nessun problema, tant'è vero che se andate a cercare il video ci sono tanti spezzoni con giocatori di rugby e allenatori di rugby che utilizzano questo tipo di tecnica, però Carro dice si, bravi, va bene. Quello che mi interessa, uno, è divulgarlo, non convincere nessuno che il metodo per placcare è perfetto e due, voglio evitare la conclusione dei miei giocatori. Tutto il resto, carrivi da una radio cosa, non mi interessa. E la sicurezza. E la sicurezza. Esatto, esatto. Allora, a monte di tutta questa cosa che vi sto facendo vedere, stiamo parlando della sicurezza dei giocatori. Basta. La sicurezza ha una capacità di placcare efficace. Nessuno, nessuno... Nessuno, nessuno... Ma è stato... Nessuno vuole vedere. Non è stato realizzato questo. Però, diciamo, la conversazione sta andando in quei termini. A mio avviso, come dicevo, il heads up a mio avviso è una tecnica ed è definita come tecnica. Questo qua secondo me è un metodo, è più una filosofia di placcaggio, questa qua, ok? E vi farò vedere perché. Il hot tackling fondamentalmente ha tre famiglie di metodi di placcaggio. Il hot tackling e basta, il hot roll tackle con un rotolamento, che qualcuno può chiamare il ghetto tackling quando volete, e il profile tackle. Poi ci sono altre due nozioncine che però anche cercando nella rete, anche andando un pochino a informarsi, non sono poi così spiegate in profondità, ok? Questo perché a mio avviso sono talmente specialistiche che anche Carlo dice che sia bene. Mi interessa applicarlo per far capire la big picture di questa cosa qua, ok? L'immagine in generale. Dopodiché ognuno si va a, se stimolato, come spero che qua alla fine della presentazione qualcuno, magari tutti voi lo siate, vada ad approfondire, cerca, esamina e va un pochino avanti. Allora, iniziamo. Hot tackling, che è questa prima prima tipologia. I coaching points qua sono tre, ok? Rispetto alle zap, abbiamo tre punti principali. Eyes through the thighs, ok? Occhi attraverso le cosce, e già qui l'altezza è un pochino diversa, stiamo parlando di un'altezza di bloccaggio. Ramp and squeeze, ok? Avvolgi e stringi. Drive for 5, when necessary, ok? Prosegui per 5 yard, se quando necessario. Questa qua è la tecnica di base del bloccaggio. Questo qua è un fotogrammino preso dal video di Seattle. Fanno vedere che il giocatore punta l'anca interna del portatore di palla, ok? Arriva, guarda tendenzialmente dal video. Va piuttosto basso, quindi entra basso, cerca le cosce del portatore di palla. Colpisce e schiaccia, ok? Avvolge, schiaccia e, possibilmente, se le condizioni di gioco non consentono, continua il bloccaggio per 5 yard. Questo ovviamente, come sappiamo tutti, nelle intenzioni di bloccaggio non avviene Boom! Sulla volta e basta, il ragazzo si siede, colpiamo e cerchiamo di proseguire il bloccaggio. Questo qua è il video, questo qua è Rocky Seto, che è l'assistente, l'assistente coach di Carlo, che è demandato a divulgare questo tipo di attività su Instagram, ovviamente. Quando è interessato la società, la scuola video scuola è interessata, Seto va a fare la sua presentazione e spiega. Parte già in genocchiato nel video, poi comunque lo trovate in un'altra. Posso vedere dei flash per farvi vedere cosa ho trovato con le differenze. Se parte in genocchiato, vedete che qua il bloccaggio è molto meno trasportato che nelle zap, ok? Non c'è nessuna indicazione medibile di così, vai a 45, ti stringi. E' anche comprensibile perché le zap si rivolge ad allenatori che insegnano a ragazzi. Qua siamo a livello professionistico e oltre, ok? Per cui si suppone che tutte le basi siano ormai assimilate, ma poi da tanti tanti anni. Quello che si nota qua è questo, testa interna. Cosa che fino a ieri, se ci si diceva, testa interna, prendeva tipo prima di mazzate di vissuti. Quindi invece qua questi oltre, la grossa, ripeto, pietra dello scandalo è questa. Testa fuori, via la testa dal placaggio, ok? Con enfasi su continuare il placaggio, è stato un punto abbastanza importante. La seconda tipologia, vedete che qua è molto più veloce, non ci sono piedi, non ci sono dimensioni, distanze. Qua è molto più spettiva la cosa. Poco lo decolo. Qua i punti sono, di nuovo tre. Qui, quando viene specificato nel video, quando non si è in situazioni tali da avere un controllo completo della situazione di placaggio, magari quando siamo tra tecolo e tecolo in attacco, riusciamo ad essere in posizione da prendere e spingere per continuare il placaggio per 5 anni. Quando siamo nelle condizioni, teoricamente, siamo magari fuori bilanciamento, cosa succede? Nel momento in cui accolgiamo e stringiamo, giriamo a terra e facciamo il famoso, quello che da alcuni viene definito il gator tecolo, ok? Quindi rotoliamo insieme al portatore di palla. E questo è quello che si vede nel video. Qui vedete che l'impatto avviene a livello delle cose. C'è qualcosa da fare. Si ferma la corsa. Qualcuno vecchia, vecchia, vecchia scuola si ricorderà che ce lo facevano fare. Pum. Porta a livello le gambe e resta venendo da sopra. Venendo da sopra. Qui si ritorna un pochino a quel tipo di abitaggio. È stato primo. Come? È stato primo insieme. È stato primo insieme a vento, ok? Quindi è vero? Viene a dire sì, niente di nuovo. Ci sta menando ancora bene. No, no, no. Non dico a te in particolare, ma è qualcosa che si sente quello. È tutta roba, tra virgolette vecchia. È vero? Però è un continuo, soprattutto adesso, negli ultimi anni, è un continuo dibattito su come chi è la migliore tra le due, tra virgolette. Cosa che in effetti è un po' sciocca. Però c'è sempre un po' di competizione quando ci sono tecniche così radicali che si stanno confrontando. Sì, ma bisogna lavorare molto sul secondo, perché se non avviene l'avvolgimento completo del giocatore, la rotazione non serve a niente. Quindi bisogna lavorare su questo. Ma questo è quello che deve fare chi si approccia a questo tipo di placcaggio. Cioè ragionarci. Se nelle heads up tentano di darti un sistema, un manuale di placcaggio, secondo il quale se segui i passi il ragazzo placca e poi anche lì è tutto da vedere, ma vuole sentire da voi. Qua ti danno un metodo di placcaggio. Ok? Con delle grandi linee guida, però all'interno ovviamente chi è coach deve capire e deve vedere quale può essere il potenziale problema con ragazzi che, come i nostri, o come nel mio caso della senior, gente che ormai sono anni che gioca e magari ha imparato quel metodo e poi dice sì, e sta dentro. Ma mi sono andato tutta la vita fuori, arrivi qui e dici e sta dentro, ma sei scemo. Anche lì bisogna un attimo… Negli scontri paurosi. Assolutamente, eccedente, io avevo ragazzi che si rifiutavano, non avevo le tasche perché non potevano ancora dicere no. Certo, cazzo mi stai dicendo. Però è interessante, cioè dove c'è dibattito comunque ci interessa, a mio avviso. Passiamo all'ultimo, profile tackle. Profile tackle è un placcaggio di spalla, ho dimenticato di dirlo. Caron nel video usa tantissimo questo termine, placcaggio di spalla, placcaggio di spalla, placcaggio di spalla, non menziona mai la testa, ok? Prevede contatto con il pettorale più vicino del portatore di palla. Questo qua è un placcaggio angolato, ok? Quando magari sono delle sweep, dove il portatore di palla è alto. Vedete che questo ragazzo qua è quello che fa placcaggio, testa interna, ok? Dio mi perdoni. E poi avvolge, ok? Avvolge e drive for five, ok? Quindi la sequenza qual'è? Attacca il pettorale più vicino. Ok? E drive for five. Continua a placarlo per altre cinquea. Ok? Hai il frame della rotazione? Come? Hai il frame della rotazione. Qua non c'è la rotazione. Qua è semplice, è una sorta, è un'angolazione del placcaggio del primo hot take, ok? Se nel primo hot take con l'aria, il frep e il 5 yard, qua ti dice dove colpire. Pettorale interno, frep e vai per 5 yard. Qua non c'è la rotazione. Qua è un placcaggio che viene, tra virgolette, in piedi, ok? Il roll è specificamente una tecchia di placcaggio quando nelle loro intenzioni non sei bilanciato e quindi devi, tra virgolette, tuffarti nel placcaggio e quindi chiudi e poi cerchi di girare per scalzare. Allora, hai fatto adesso il movimento, perché la grossa rivoluzione della rachitechnica, rispetto alla tecnica che abbiamo imparato in ultima anni noi, è la differente professione ancora. La rachitechnica ti richiede di girare internamente, per sapomettare la testa, ma poi il colpo lo prende sulla spada e su te. Certo. Rischiamo altro. Però per chiudere l'inerzia devi chiudere l'interno. Devi chiudere l'interno, cosa che è abbastanza naturale. Allora, nella nostra tecnica, diciamo, all style, tu tagli, mettendo la destra. Esatto. Tagli avanti. Quindi non è solo un tema di doveri la destra, ma anche di come voti il corpo. È un tema di dinamica. Aspetta anche le ginocchia che stanno più strette. Certo. Tanto io che i miei ragazzi, mi rilascio a quello che dici, i miei ragazzi quando provavano il roll deco si trovavano molto, molto avvisato, perché è un movimento che viene naturale. E' un movimento che viene naturale. E' tutta una dinamica tale per cui, se cerchi la calcio dal lato esterno, automaticamente hai un tipo, se devi rotare, hai un tipo di rotazione che ti fa cadere addosso al portatore di pallo. Quello lo fanno per mi fai guadagnare gli altri. Si. La rotazione inversa è quello perché ti fermo e vado. E vado, certo. Certo. Tagli le lezioni delle roglie dell'antica. Altri due punticini veloci. Carlo specifica la strike zone dalle cosce al collo, questo per evitare quello che ha generato, non la nascita, ma la pubblicazione dell'antica. Quindi non andrà a coltire l'uovo sulla testa. E poi c'è il compression tackle, che è una versione molto, molto professionista e professionale del gang tackle. Ok? Il portatore di palla, tutti e due i pensori con la stessa tecnica vanno e fanno danno. Ok? Nelle spiegazioni del hog tackle, la testa non viene praticamente assoluta. Ok? Non si dice guardi in alto, metti in alto questo. Togli la testa. Ok? Tant'è vero che addirittura, in alcuni casi, vedrete nel video i giocatori che spiegano il blaccaggio a hog tackle che tengono la testa bassa e guardano in basso. Ok? Nel senso non viene stressato come stressiamo noi, abbiamo bisogno che giustamente tiene la testa alta e guarda come succede. Già loro con il primo metodo, Ice to the Ties, ti dicono guarda cosa stai per colpire. Ok? Quando vai per il placcaggio, placca in questa maniera. Vedrete, se andate a vedere il video, che tanti di questi giocatori arrivano, fanno placcaggio e fanno quello che per noi adesso, per un po' di anni ormai, è quasi sacrilegio. Cioè, sembrano rilancare la schiena e non guardano il portatore di palco. E' molto strano da vedere questo tipo di atteggiamento. Per finire, mi sono preso dei parametri che mi hanno aiutato a pesare questi due metodi. Ok? Gli occhi, come vi ho detto prima, heads up, guarda quello che colpisci. Nel fog tackle ti dicono, usa gli occhi per seguire quello che succede. Ok? Quindi, in uno c'è tecnica. Alza, ti guarda in alto. Non ti dicono cosa fare. Ti dicono come placcare, ma tutto sommato non ti insegnano come placcare in quale situazione. Viceversa, nel fog tackle è già un pochino più presente questa cosa. La calcio frontale, la calcio con roll, nel caso in cui non riesci ad avere una buona base. La calcio con volato. Ok? Quindi gli occhi hanno due funzioni diverse. In uno è per aiutarli ad ottenere una certa postura. Exactly. Ok? Nel fog tackle gli occhi servono per seguire il portatore di palla, anche in terra. Tracking. Anche lì, heads up non è assolutamente menzionato. Il tracking è seguire l'azione. Cosa succede? Nel fog tackle è importantissima questa cosa qua. Ok? Guardiamo cosa succede. Breaking down. Il breaking down è la prima fase dei corretti del heads up. Quindi, piedi, larghezza delle spalle, ci si affonda, schiena. Scappo. Come dire? Spalle rivolte verso di dietro, eccetera. Questo è dato come un dato di fatto nel fog tackle. Non se ne parla neanche. Qui si arriva all'approccio al placaggio e come placare. Ok? Il contatto. Anche qui. Head up. Lo esplode in shoot, in shoot, delle A che ti fanno un certo tipo di movimento per andare a portare il placaggio. Come si colpisce il portatore di palla. Qua il fog tackle ti dice, avvolgi e stringi. Basta. Lo ti dice, colpisci chiama con le spalle. Metti la testa in una determinata maniera. Questi punti li ho messi proprio per fare a mio avviso notare come ognuno di questi ha uno se non due capitoli nel heads up e viceversa, nello fog tackle sono praticamente assenti. Ok? Questo per rafforzare a mio avviso quella che è la principale differenza da questi due metri. uno è una tecnica che ti dice, si placca così e facciamo placare i ragazzi così, perché così non si faranno male. Così voi genitori, apparentemente, meglio nelle intenzioni di questo filmato, siete tranquilli che questi ragazzi hanno il numero numero di possibilità di farsi male o di avere eventi catastrofici durante la limita di fuso. Nel fog tackle Carlo dice, io con il rugby mischiando queste due cose, mettendoci del mio, quello che ho utilizzato e utilizzo con i C-Hawks e un po' di statistiche lo dicono, lo confermano, poi ovviamente non lo tirano al suo mulino, però apparentemente le statistiche dicono questo metodo sembra funzionare, è ancora un pochino troppo presto perché è un metodo che è stato divulgato da tre anni. In fulbo si sa, le cose sono abbastanza rette per piede, siamo abbastanza conservativi come relatori. Come avventure qualcosa di nuovo in toto, in generale si tende ad essere abbastanza critici. E però ci sono articoli di tipo il Chicago Tribute che dice che le squadre di NFL che hanno adottato, o che stanno adottando questo metodo, hanno diminuito il numero di conclusioni. Quindi c'è una cosa reale, documentata, non si può. Io uso questo per secondo... Ma anche a livello di high school e middle school tanti allenatori, e qui fa un pochino a concludere nella mia presentazioncina, gli allenatori dicono, ok, è da più anni che noi utilizziamo il head-up, i ragazzi l'hanno imparato, io tutto sommato mi sento ammiato nell'insegnarlo, però un walk-talk mi interessa, perché, e viene anche specificato, a me non interessa che i ragazzi mi vinca tutte le partite, mi interessa che giochino in sicurezza, soprattutto middle e high school. Poi la competitività, è ovvio, deve essere sempre presente, ma è molto peggio avere a fare con un ragazzo per terra che non si muove, piuttosto che, ok, una sconfitta in campo, ok. Quindi, tutto questo per conoscere la storia. Tanti allenatori, e questa è anche la mia opinione, dicono, ok, ho sempre insegnato questo metodo e tutto sommato c'è quella sorta di agio nel quale si trova con un certo metodo e vedere che i ragazzi lo recepiscono. Parlo del metodo più vicino a HeadZap, quello un pochino più catalogato e da manuale, ok. E' anche vero che è molto stimolante, a mio avviso, avere un metodo un pochino più generico, un pochino più malleabile, al quale io magari posso sovrapporre degli elementi di HeadZap con i quali mi trovo a viaggio, perché i ragazzi hanno bisogno di struttura. Io parlo di ragazzi, io alleno la senior, alleno il linebacker della senior, non sono più ragazzi, a tanti altri, sono molto oltre ai ragazzi, però è con loro un po' più difficile da fare questa cosa, perché tanti arrivano, come giusto che sia, da diversi anni di esperienze e fargli cambiare la cosa così è un pochino un problema. Però ecco, concludo dicendo, a mio avviso è possibile che ci sia una convergenza tra i due metodi, che non risulti vincitore uno o l'altro e uno venga bollato con l'infamia, bensì che si tenda un pochino a far convergere questi due metodi, e qui concludo chiedendovi, avete utilizzato il cock tackle? Io l'ho utilizzato con determinati risultati, ok? Chiudo e apro la sessione di domande. Una domanda che esuro un attimo dal fatto della preservare, cioè a livello di efficacia, sono statistiche che dicono quanto efficace sia, nel senso che il grosso limite dell'UCC è quello appunto di portare a testa una parte rovescia e di andare a lavorare con la quale principi per il braccio. Ci sono delle statistiche che dicono che comunque SIOX sono, adesso questo qua è lo studio dell'anno scorso, e questo qui mi sono basato su dati 2015, 14 eccetera, poi sia la difesa SIOX è comunque sempre molto alta in efficacia dei placaggi, potre che essere sempre molto molto in alto, in senso positivo, come numero di confusione, come numero di confusione, tipo 1, 2, 3 all'anno massimo. Quest'anno dicono che i loro sono i primi ad avere più placaggi e meno infortuni. però non è sempre coerenti alla tecnica del SIOX table, cioè dell'ortable. Perché dal punto di vista personale, quello che noi paghiamo in questo caso è la rottura del placaggio. Certo. Non dimentichiamo, è vero, non dimentichiamo, questo qua sono i SIOX che insegnano questa tecnica. C'è uno studio che parte da quella, insegna ai ragazzi gradatamente quella e introduce anche questa, perché porta il linebacker a essere non più statico, ma dinamico, a guardare, a scegliere la cosa migliore ed essere efficace. Non che quella non va bene e allora usiamo solo questo. E perché questa implementata non è stata sostituita dalla vecchia? Come? E' stata implementata, non è che adesso si è uno spesso di placare. No, assolutamente, ma anche se tu dici, attenzione, nei filmati che vedete, non tutti i miei giocatori mettono la testa interna, però a loro interessa che la testa non diventi più uno strumento passivo nel placare, è quello che interessa a loro, ok? Non sostituire e convincerli. Prego. Scusa, intanto grazie perché è un lavoro, diciamo, veramente eccezionale perché focalizza alcuni punti. C'è un problema, secondo me, etico che viene prima di tutto l'aspetto dell'efficienza del placare, cioè quello, se noi quando siamo coscienti dei danni e delle tecniche sbagliate in cui ci siamo formati, penso tutti quelli di questa stanza, hanno poi portato, perché sono dati che non avevamo mai mai visto, il tema delle concussioni e delle concussioni centrali, il tema relativamente è presente. Quindi secondo me da allenatore la prima questione è quanto voglio mettere a corrente il giocatore dei rischi che corre, come fargli gestire la situazione dinamica in maniera tale che sia almeno, diciamo, problematica possibile. Assolutamente, l'intenzione è questa, non... perché, diciamo, potrei essere io parlato del CTE, non lo so, perché a maniera del tempo ha nullato anche di quelle botte, ogni tanto si capisce che è un quale, quindi questo potrebbe essere autocritico. Potremmo vedere a tutti che abbiamo usato la testa. Quindi, ne parliamo da 10 anni e alla commissione del 2027. Però c'è una questione che, allora, su US Football c'è un problema, loro hanno cercato la ragione giornale, gli mettono una foglia di figo sul problema, perché... e abbiamo bisogno, come fanno gli americani, di dare un libro di istruzioni a tutti, per cui doveva essere un sistema sequenziale ripetibile senza nessuna, diciamo, dubbio e no, è così. È così perché il loro modo di attuare è che, siccome c'è un piccolo letto, serato nelle persone rispetto alle tecniche normali, perché ovviamente ha mescolato con un affronto assoluto. Alcuni limiti della tecnica, della hot, che secondo me sarebbe preferibile, sono la perdita di terreno, perché tu, purtroppo, nella gestione dinamica del roll, potresti subire comunque un paio di hard, che è un problema, e le tecniche di trillaccaggio frontale, quando ti dovi a contrastare, a dentro il box, una ride. E quindi lì hai problemi, perché dove metti la testa? Perché se metti la testa, se togli la testa, rischi che la spalla frontalmente non riesca a leggere un po' di un run-in-back che entra dentro più... Certo, sono tutte critiche che vi vengono rivolte e dice, allora, lui ovviamente si protegge un po' più dicendo, non sto dicendo prendete tutto quello che avete fatto, buttatelo via e fate questo, perché io sono confezione. Vi dice, io uso questo metodo, non sempre, non che, non sempre, non sempre, però prendetelo in considerazione e lui non l'ha messo. Carlo non l'ha messo, e dice, io l'utilizzo. E poi, per chiudere, c'è un altro tema che riguarda il trillaccaggio di campo, ho detto che, se guardiamo l'NFL, si spingono, si spingono. E' un'altra cosa, infatti, a me spesso, è capito che già le corregge, che i giocatori che guardano l'NFL colpire e pensano che quella è il trillaccaggio. che vanno di spalletta. L'altro in base corre. Mi volevo quello che diceva il collega. In effetti, tu alleni solo l'NLB, visto? Com'è? Alleno l'NLB? 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 Allora, io, e vado forse anche a rispondere a lui, ho provato, ho provato di implementare il metodo Hawke nella senior, i NLB con i NLB esterni e i centrali. I centrali volevano mettermi le mani addosso. Ovviamente, perché erano lì così dedicati, non ce l'ho in faccia, ma sei scemo, la prima cosa che faccio è farlo scoppiare. E hanno una persona, lo dico qua. Gli esterni, essendo un pochino più vicini ai defensive back come filosofia, e quindi, essendo un pochino più agili, più mobili, erano un pochino più recettivi a questa cosa. Devo essere sincero, il fatto di dirgli, mettere la testa dentro, faceva restare i capelli anche chi non li aveva, cioè, o non ce l'ha fatto, o un ragazzo che ce l'ha colto. La mia questione è, all'interno del box, se non è tecnicalizzato, può portare, bruciandolo a tutti gli spazi che concedi al portatore di pala, arrivare, avere un'erzia minore del portatore di pala. Sì, sono d'accordo. Arrivare a contatto e magari inizi a lavorare per lo spirito della pala. Sono d'accordo. Mentre, estremamente, ti dobbiamo portare a partire i giocatori più amici. Esatto, e quindi anche sui giocatori più leggeri. Esatto, esatto, non ti trovi così bilanciato. Grazie.